Campo principale lo stesso di domenica scorsa, il Città degli Ulivi, protagonista del Big Match di giornata, la decima del campionato di eccellenza ancora una volta all'USB Tonto. Una delle due capolista del girone alla seconda uscita interna consecutiva, ospita domani a partire dalle ore 14.30 la Vigortrani, ossia una delle squadre che occupano l'ultimo gradino del podio a meno uno dalla testa della classifica e la rivincita del quarto di finale di Coppa Italia di Lettanti vinto dai tranesi è una sfida destinata inevitabilmente a cambiare la forma e la sostanza della graduatoria nei quartieri alti di fronte due tra le squadre più esperte della categoria. USB Tonto, Vigortrani tra l'altro è l'unico scontro diretto in programma tra le prime sei della classifica, tutte racchiuse in due soli punti, l'altra capolista il Gallipoli se la vedrà in casa con il Bieste, la vetrana reduce da otto risultati utili di fila, affronta a Terlizzi un Molfetta che deve riscattare il recente scivolone rimediato sul Gargano, il Fasano ospita l'Otranto mentre il Casarano gioca a ruvo contro un'unione calcio-biceglia alla ricerca del primo successo in questo campionato. Stesso discorso che vale anche per il Barletta, la formazione di Franco Cinque senza Rana che ha reciso in settimana, chiede strada ad un nuovo lì in affanno nelle ultime uscite. Occasione d'oro per l'Omnia Bitonto, la vittoria a tavolino con il Corato arrivata tre giorni fa ha ridato entusiasmo all'ambiente, ora serve un successo sul campo non impossibile da ottenere ad Aradeo per migliorare la classifica. Il ricorso a cui facevamo riferimento invece lo ha perso il Corato che a sua volta ha annunciato di rivolgersi alla commissione disciplinare per riottenere il punto sottratto dal giudice sportivo. I neroverdi andranno a caccia del tres di vittorie sulla terra battuta di Galatone contro il Galatina.